Da novembre ad aprile sarà il Teatro Morelli ad ospitare il progetto di educazione teatrale Generazioni Giovani, promosso dal Centro RAT Teatro dell'Acquario insieme al Comune di Cosenza, progetto che quest'anno compie 20 anni. Ormai consolidato è diviso in due sezioni, scuole a teatro e famiglie a teatro e ogni anno registra la presenza di tantissimi bambini e giovanissimi intorno alle migliori produzioni di teatro per ragazzi, sia nelle matinee scolastiche che nei pomeriggi domenicali insieme alle famiglie. È un progetto altamente, noi riteniamo, formativo perché comunque rivolgersi alle giovani e generazioni, abituarle, dargli proprio il senso della misura del teatro, l'importanza del teatro, frequentare il teatro. Pensiamo che sia l'unico modo efficace realmente per riuscire a resistere nel tempo. L'effetto di Generazioni Giovani, che ha avvicinato migliaia di ragazzi al teatro, in questi anni ha prodotto nei giovani anche il desiderio di non fermarsi alla visione degli spettacoli, ma di voler entrare dentro il teatro, partecipando ai corsi che sono sempre più affollati. Io personalmente credo molto nel teatro per i ragazzi, ci credo perché non solo l'avvicinamento alla cultura, ma è anche proprio un modo per poter crescere in termini di personalità, dare sicurezza, calcare il palcoscenico significa per un bambino avere consapevolezza di se stesso e della propria forza. Comprendere che cosa significa l'essere tutti i giorni e poi calarsi nelle vesti di un altro. Mi è rimasta impressa se posso fare una nota autobiografica. Io ho un nipotino che frequenta appunto la scuola di teatro da tanti anni e l'ultima volta è stato protagonista di una delle pièce che era Le vesti dell'imperatore, finché praticamente, come sapete, l'imperatore in realtà è nudo perché le vesti sono fatte da imbonitori. E quando l'ho preso in giro, ho detto «Fernando, ma sei stato nudo nel teatro, non ti sei vergognato?» E lui mi ha risposto «No, zia, non hai capito, non ero io, era l'imperatore». Generazioni giovani, prima dell'avvio ufficiale di stagione, avrà un'anteprima che si terrà sabato 13 ottobre alle ore 18 al Teatro dell'Acquario, nello spettacolo di Burattini «El kinde, el fuego y el gigante» del gruppo ecuadoriano La Rana Sabia.